Edgar Davids potrebbe tornare a giocare. A rivelarlo è la stampa inglese secondo la quale il 37enne centrocampista olandese ex Juventus Inter e Milan avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il Crystal Palace sulla base di un gettone a presenza. Tra oggi e domani l'atteso annuncio del suo sbarco a Salahs Park. Intanto da Liverpool il tecnico dei Reds, Roy Hodgson, fa sapere di essere disposto a cedere Mascherano, obiettivo dell'Inter, ma anche del Barcellona, ma solo di fronte ad un'offerta degna del valore del giocatore. Si complica invece la trattativa fra Chelsea e Santos per il 18enne centravanti Neymar. Il club brasiliano chiede 35 milioni, una valutazione secondo l'Independent ritenuta eccessiva dalle parti di Stamford Bridge. C'è anche un possibile clamoroso ritorno in Premier League di David Beckham. Un milionario indiano vicino all'acquisto del Blackburn, in un'intervista al Daily Mail, ha promesso ai suoi nuovi tifosi che cercherà di ingaggiare l'ex capitano dell'Inghilterra.